A Topascio cambia rotta, Sara D'Ambrosio sindaco, al ballottaggio l'exploade, la candidata PD che supera a sorpresa Francesco Fagni e pone fine a quasi un quarto di secolo di governo di centrodestra. Inaugurato il ponte sul lago, grande folla, la cerimonia di apertura al pubblico della nuova attrattiva turistica di Vagli in Garfagnana. Terzo divieto di balneazione per il mare della Versilia dall'inizio della stagione, stavolta bagni in mare vietati a Fiumetto. Opera, prosa e danza, la stagione del Giglio, presentato il cartellone 2016-2017 del Teatro Lucchese con il ritorno come sponsor della concessionaria Lucar. Lo sport, salute, Lucca, capitale di medicina sportiva, torna a Palazzo Ducale il convegno internazionale Sport Overuse, tra i relatori e anche il responsabile sanitario dell'Inter. In primo piano il ciclismo amatoriale. Ben trovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi, in primo piano l'elezione del nuovo sindaco di Alto Pascio, dopo il ballottaggio e risultata eletta Sara D'Ambrosio, la candidata sostenuta dal Partito Democratico. Festeggia Sara D'Ambrosio insieme al suo entourage. La 29enne capogruppo del Partito Democratico è il nuovo sindaco di Alto Pascio, l'unico primo cittadino donna della provincia di Lucca. La città del Tau ha quindi svoltato dopo 23 anni di centrodestra, un risultato sul quale in pochi sarebbero stati disposti a scommettere solo un mese fa e che continuava ad essere ritenuto poco probabile anche dopo il primo turno che Francesco Fagni, il mancato erede di Maurizio Marchetti, aveva comunque chiuso in testa di sette punti. E invece al ballottaggio la D'Ambrosio ha messo a segno un vero e proprio exploit. Mentre Fagni ha più o meno mantenuto i propri voti, la candidata del PD è riuscita ad ottenere ben 600 preferenze in più rispetto a due settimane fa. Non è escluso che a questo risultato abbiano contribuito i voti andati al primo turno agli altri due candidati, Matteo Torri e Ferruccio del Sarto, preferenze che potrebbero essere confluite proprio sulla D'Ambrosio, anche se i due non hanno dato indicazioni di voto ufficiali. Fatto sta che la D'Ambrosio ha saputo interpretare un quasi fisiologico bisogno di cambiamento ad alto pascio e per farlo ha potuto contare su un partito che si è schierato compatto al suo fianco ed in particolare sul supporto dell'assessore regionale Marco Remaschi. Ecco la prima emozionata dichiarazione della neosindaco. È una grandissima emozione, io non ho le parole per descrivere questo momento, ci abbiamo creduto fin da subito e il nostro è un lavoro che parte da lontano, io ringrazio tutti perché hanno creduto nella possibilità di cambiare, hanno creduto in questa squadra, hanno creduto nella possibilità di dare, come diceva Marco, un riscatto a questo paese. Un abbraccio sorprendentemente caloroso ha chiuso il confronto elettorale con lo sconfitto Francesco Fagni che ha ammesso la propria delusione ma ha anche garantito un'opposizione forte in Consiglio Comunale. Ed ecco la composizione della nuova assemblea. Per il PD i nuovi consiglieri sono Daniel Toci, Marco Remaschi, Martina Cagliari, Ilaria Sorini, Giovanni Pippi, Gaia Stefanini e Francesco Marzano. Per Viviamo Alto Pascio, la lista civica di maggioranza, Marzia Riccomi, Sergio Sensi e Nicola Calandriello. Per l'opposizione entrano in Consiglio, oltre a Fagni, per la lista insieme per Alto Pascio, Maurizio Marchetti, Elena Silvano, Fabio Orlandi e Sergio Centoni. Per la Lega Nord, Simone Marconi. Il giorno dopo il ballottaggio è arrivata anche la dichiarazione del sindaco uscente Maurizio Marchetti che fa i complimenti a chi ha vinto e augura a Sara D'Ambrosio e alla sua compagine di fare bene. Da parte nostra, dice Marchetti, ripartiremo per fare un'opposizione seria e decisa. Sarà interessante verificare che tutte le promesse fatte in campagna elettorale siano rispettate, dice Marchetti. Qualche dubbio lo nutriamo, visto che non sarà semplice rovesciare su Alto Pascio i milioni di Euro di fondi regionali ed europei come hanno promesso loro, dice il sindaco uscente. Però c'è Bagarri in Forza Italia dopo il risultato elettorale di Alto Pascio. I dissidenti di Forza Italia criticano Marchetti e ne chiedono le dimissioni da coordinatore provinciale del partito. C'è un comunicato congiunto del capogruppo del partito a Luca Marco Martinelli, del sindaco di fabbriche di Vergemole Michele Giannini e soprattutto del capogruppo di Viareggio, Rodolfo Salemi, che dice Marchetti si era insediato al motto chi perde le elezioni non può guidare il partito e a questo punto, dice Salemi, ci aspettiamo un atto di coerenza. E la Bagarri in Forza Italia è arrivata anche a Roma, ha suscitato reazioni anche da Roma con un tweet. Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, ha definito bollito Maurizio Marchetti, vendicandosi così della stessa definizione che gli era stata data dall'ex sindaco qualche mese fa. Gasparri e il senatore Matteoli erano stati ospiti di un'iniziativa di Rodolfo Salemi a Viareggio e Marchetti nel corso di una trasmissione su Noi TV li aveva definiti un bel bollito misto. Il video pare avesse mandato su tutte le furie Gasparri che adesso si è vendicato. Chiudiamo la pagina dedicata alle elezioni ad Alto Pascio e parliamo di cronaca. Sono in corso nel compitese le ricerche di un 36enne di origine ucraina, Sheri Kmilevski, che è scomparso senza lasciare traccia dall'abitazione in cui risiede con la sorella in via Sant'Andrea nel compitese. Questo giovane, vedete nella fotografia che è stata diffusa dal comune di Capandoli e dalla prefettura, è alto 1,75 m e pesa circa 80 kg. È vestito con scarpe da tennis celesti, pantaloni chiari e una polo blu scura. È arrivato a Capannori, ospite della sorella, per sottoporsi a cure mediche dato che soffre di vuoti di memoria, di amnesia e quindi potrebbe essersi smarrito. Le ricerche condotte dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale di Capannori sono in corso in tutto il compitese. C'è stato uno sventato furto all'ottica Megavision di Picciorana sulla via Pesciatina nel comune di Lucca. I malviventi avevano sfondato la vetrina del negozio con un'auto che poi è stata ritrovata e che è risultata rubata, ma l'intervento di una volante della polizia ha messo in fuga i tre individui che hanno abbandonato sul posto la refurtiva e l'auto usata per il colpo. La polizia ha così potuto recuperare sia l'auto che la refurtiva che consisteva in cento paia di occhiali da vista per un valore di circa 14 mila euro che quindi i ladri non hanno potuto portare via. Ci spostiamo adesso in Garfagnana a Vagli sotto per l'inaugurazione del nuovo ponte sospeso sul lago. Nonostante l'incertezza del tempo, grande partecipazione alla cerimonia di inaugurazione del ponte a funi sospese che unisce le due sponde del lago di Vagli. Alle nove nel paese di Vagli sotto alza bandiera e deposizione il due corone dall'oro, poi il lungo corteo formato da autorità si è mosso in direzione del ponte. La cerimonia ha avuto un carattere militare visto che era gestita direttamente dal reggimento San Marco, a quale appartengono Imarò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, detenuti in India per diverso tempo ai quali il ponte è dedicato. Alla manifestazione non erano invece presenti né sindaci né labari di comuni della provincia di Lucca. Lungo il percorso tanti applausi al sindaco Puglia. Dopo il taglio del nastro c'è stata la scopertura della targa con dedica a Girone e Latorre. Poi la signora Puglia ha donato un mazzo di fiori alla sorella di Fabrizio Quattrocchi, la guardia privata uccisa a Bagdad. Ed è stata proprio Graziella Quattrocchi a posare il mazzo ai piedi della statua che ricorda il fratello, collocata nel parco dell'onore e del disonore. Per me è sempre emozionante ricordare Fabrizio. Appena terminata la parte ufficiale della cerimonia, il nuovo ponte è stato preso d'assalto per tutto il giorno da migliaia di visitatori. Pienamente soddisfatto dell'opera il sindaco Mario Puglia. Io ringrazio tutti i partecipanti e credo che il comune di Vallisotto con questa opera abbia voluto migliorare il turismo in Italia perché questo lo merita veramente. È un'opera che passerà anche i confini italiani, è un'opera di una importanza importante, collega le due sponte del lago. Vedo che c'è migliaia e migliaia e migliaia di persone e sono veramente soddisfatte. Adesso ci spostiamo in Versilia per il nuovo divieto di balneazione che riguarda stavolta la località Fiumento. Non arriverà prima di martedì pomeriggio la revoca dei divieti di balneazione scattati sabato pomeriggio nel breve tratto di spiaggia a nord della foce di Fiumento a Marina di Pietrasanta. Nella mattinata di lunedì Arpat ha eseguito gli esami di verifica che dovranno accertare il rientro nei limiti dei valori di enterococchi intestinali che hanno causato lo stop ai bagni in mare, il terzo dalla metà di maggio a oggi. Tra i balneari di quei 100 metri di spiaggia a nord della foce c'è rabbia e sfiducia. Nessuno vuole parlare davanti alle telecamere ma il senso di indignazione e impotenza è forte. Il danno di immagine a inizio stagione il ripetersi di una situazione ormai estenuante. E infine il paradosso dei confini del divieto che interessa solo quattro stabilimenti stavolta. La bagnazione resta infatti valida paradossalmente nei due bagni che si trovano al ridosso della foce stessa. Siamo sicuri, attacca il capogruppo del PD Rossano Forassiepi dalla sua pagina Facebook, che con questa ordinanza sia stato rispettato in pieno il principio di precauzione e tutela della pubblica salute. Sullo sfondo per la foce del fiumetto resta il rischio del divieto permanente della bagnazione al pari delle acque dei porti, che potrebbe arrivare nel 2017 se di qui a fine estate i divieti dovessero ripetersi con questa frequenza, come già successo peraltro alle foci della vicina costa puana. L'unico salvagente che si vede all'orizzonte è il famigerato acido peracetico che dopo il via libera della conferenza dei servizi poche settimane fa attende soltanto i tempi tecnici di realizzazione degli impianti, una vera e propria corsa contro il tempo. Torniamo a Lucca, è stato inaugurato alla presenza dell'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini il nuovo parcheggio pubblico in località Arancio, utile per dotare la zona di un'area di sosta gratuita. Il parcheggio si estende su una superficie di 2400 metri quadrati e mette a disposizione 92 stalli bianchi e tre posti riservati a persone diversamente abili. L'intervento globale ha portato anche alla realizzazione di una nuova strada di collegamento 260 metri di lunghezza tra la via Romana e la via Dante a Lighieri e il relativo parcheggio a margine. La strada è connessa alla viabilità esistente attraverso la realizzazione di un nuovo accesso a T sulla via Romana, a circa 80 metri dalla linea ferroviaria e attraverso l'accesso già esistente su via Dante a Lighieri. Rimaniamo a Lucca per la presentazione della nuova stagione del Teatro del Giglio. Sono state presentate le nuove stagioni di opera, prosa e danza del Teatro del Giglio per il 2016-2017. Un cartellone di forte impatto che punta su proposte di qualità e progetti multidisciplinari capaci di legare il linguaggio del melodramma a quello della prosa, per una stagione che non mancherà di stupire e attrarre il pubblico. Tra le novità più rilevanti, la stagione 2016-2017 vede il ritorno di Lucca quale sponsor del Teatro del Giglio, un rientro importante e carico di significato. Questo è un elemento estremamente positivo per il quale nel 2016 siamo ancora ulteriormente impegnati, sperando che questo atto, in come dire, sia anche, abbia una sua emulazione da altri soggetti, perché è chiaro che bisogna muoversi verso soggetti privati. Un riequilibrio del rapporto fra le risorse pubbliche e quelle private è assolutamente necessario per qualsiasi ente di carattere culturale. Tra le rappresentazioni di punta, per la lirica sicuramente quella dell'Orlando Furioso, in occasione dei 500 anni del poema riostesco, mentre per la prosa la rappresentazione di vacanze romane, con Serena Autieri e la partecipazione del Vespa Club Lucca. Insieme al cartellone che prenderà il via ad ottobre prossimo, è stato annunciato l'inizio della campagna di abbonamenti, che partirà martedì. Obiettivo del teatro è quello di bissare i numeri dello scorso anno. Abbadia di Cantignano, la cerimonia finale per il premio letterario Carlo Piaggia. È stata la splendida Abbadia Romanica di San Salvatore di Badia di Cantignano ad ospitare la cerimonia di premiazione dei vincitori della prima edizione del premio letterario nazionale Carlo Piaggia, intitolato alla figura del noto esploratore, viaggiatore e antropologo lucchese nato qui negli anni 20 dell'Ottocento. Il concorso, articolato in tre sezioni, ha visto la partecipazione di oltre 120 autori provenienti da tutta Italia. A valutarli la giuria presieduta dal professor Luciano Luciani. Una buona cosa, una bella cosa, con tanti partecipanti provenienti da tante parti d'Italia, lavori di buona qualità, in alcuni casi anche di eccellente qualità. Diciamo che si sono intrecciate una serie di elementi positivi, di dati positivi. La volontà di valorizzare la bellezza di questi luoghi e di farlo attraverso la letteratura, le iniziative musicali e anche alcune idee forti che sono quelle della solidarietà, della condivisione e dell'accoglienza che sono un po' al centro dello spirito di questa nostra iniziativa che è letteraria e poetica ma non soltanto. Per la sezione poesia inedita il primo premio è andato a Umberto Vicaretti di Roma con Fiori di Bodrum. Per la sezione narrativa inedita il primo premio assoluto è stato consegnato a Emiliano Angelucci, 19 anni, di Rieti, con il racconto Il viaggio di Tito. Per quanto riguarda la sezione narrativa edita il primo premio è andato a Matteo Predaroli di Genova con Barche di Carta, Arduino Sacco editore. A Lucca bilancio finale positivo per Giochiamo, la due giorni dedicata ai giochi da tavolo che si è svolta al Polo Fiere di Sorbano. Oltre 300 giocatori provenienti da gran parte del centro e del nord Italia ma anche da Spagna, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca e Polonia. Nove tornei per un totale di più di 500 partite. Numeri quindi davvero positivi che riescono a descrivere solo in parte un evento che si è svolto in un clima di allegria e passione per il gioco da tavolo. Come era già avvenuto lo scorso novembre per il campionato mondiale di Blood Bowl, il Polo Fiere di Lucca si è dimostrato perfetto per accogliere questo tipo di manifestazioni con le ovvie ricadute positive per il territorio. Torniamo in Versilia per Lo Spirito del Lago in mostra al Teatro Puccini. Le opere di 16 giovani artisti provenienti da tutto il mondo che hanno interpretato il paesaggio del Massaciuccoli sono esposte nel foyer del Teatro Puccini nell'ambito della mostra Lo Spirito del Lago. Sotto la guida dello scultore Andrea Bimbi, titolare della cattedra di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, questi giovani artisti sono tornati a rivisitare pittoricamente i luoghi pucciniani ed esercitare quella coscienza dello sguardo senza la quale ogni immagine di questo territorio di così straordinaria rilevanza ambientale, storica ed estetica svanirebbe. Sì, sì, è purtroppo stato dimenticato, ma in realtà è un paesaggio estremamente affascinante che andrebbe decisamente riqualificato e anche, come dire, rivissuto in quella dimensione dell'anima che appartiene proprio a questi luoghi. Questo originale mostra, alla sua prima edizione, nasce nell'ambito della Scuola Internazionale di Pittura del Paesaggio, che ha visto la sua fase sperimentale acquiesa e che ha come soggetto tematico, lo spirito del lago, il paesaggio, come ritratto e come partitura musicale, sotto la guida della Commissione Artistico-Scientifica composta, fra gli altri, dai pittori Brunello Baldi e Maurizio Canale, da Giuseppe Cordoni, poeta e critico d'arte, coordinatore del progetto, nonché presidente dell'Associazione Città Infinite, e Giovanni Enrico Arrighini, coordinatore organizzativo della Scuola. Prima di chiudere vi annuncio che il primo giorno d'estate, martedì 21 giugno, la chiesa di San Francesco a Lucca rimane aperta al pubblico dalle ore 15 alle ore 19, in occasione dell'edizione 2016 della Festa Europea della Musica, in programma proiezioni di filmati musicali a cura dell'Associazione Musicale Lucchese. È tutto per la prima parte dell'ETG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.